salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto in un posto spettacolare ci troviamo nelle Marche in provincia di Macerata e a Macerata ci ho pure fatto il car del militare nel 91 ma questa è provincia di Macerata perché più precisamente siamo a Cingoli a Cingoli c'è un lago un lago artificiale ma che è spettacolare perché il colore del lago è quasi caraibico è allucinante è anche un lago molto grande come dimensioni ha una forma a cuore e questo lago artificiale è stato creato perché è stata costruita una riga e quindi per riprendere questa meraviglia voleranno due droni di casa DJI volerà il DJI Mini 3 Pro che farà riprese un po' panoramiche dall'alto e poi volerà DJI per fare delle riprese più suggestive quindi ragazzi detto tutto questo se il video dovesse piacervi come al solito mi raccomando un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità anteprime spoiler anche di questa location era arrivato lo spoiler spoiler dei prodotti che arriveranno poi su YouTube e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti ai droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdevi anche un video un volo una recensione un testo un tutorial o novità ma adesso mettetevi comodi risoluzione YouTube al massimo e gustatevi questo spettacolo a Cingoli in provincia di Macerata nelle Marche iniziamo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.